mia madre è morta le chiavi della mamma passa a vedere la casa un'ultima volta sono la nuova vicina sono assistente domiciliare mi occupo di persone come lei come me ma ma certo non sei stanco di mentire sempre cosa ci guadagni niente ma è una sfida i miei fanno un barbecue domenica le va di venire eccoci qui e io sono la sorella florence mia sorella è single avrete tante cose da raccontarvi siete tutti due parigini che volevi che dicessi è una balla non sono handicappato è per rimorchiare tua sorella c'è una persona per lei è un handicappata fisica buongiorno buongiorno le posso parlare sì che c'è venga no venga lei no venga lei no lei no venga lei no non mi posso muovere e com'è questa sorella è interessante è bella no no è così complicato non è fatto per essere semplice vuoi un altro consiglio lascia perdere hai ragione non le dirò tutto sai nuotare sì wow